Bene, grazie Andrea. Io riprendo la parola per gli ultimi aggiornamenti per parlare di ruggine dell'aglio. Quindi attenzione a condizioni di bagnature prolungate in quanto potrebbero dare il via ad infezioni di ruggine. Per un'ospora patata solamente sugli impianti sensibili in questa fase, le prossime piogge, se daranno delle bagnature prolungate, potrebbero essere a rischio di infezione. Ruggine grano. Nei primi giorni del mese di maggio abbiamo avuto delle condizioni favorevoli alle infezioni che potrebbero essere visibili tra il 10 e il 15 maggio. Tra quelle date quindi consiglio di andare a controllare lo scopo di individuare le prime pustole. E per ultimissimo parliamo ancora di fusarium in quanto se ci fossero ancora degli impianti in fioritura e se ci saranno delle condizioni di bagnatura prolungata con delle piogge potrebbero verificarsi delle condizioni per l'infezione. Ricordo che le varietà Bologna, Blasco e Mieti, se non sono in ristoppio, sono tolleranti a questa malattia. E io con queste ultime notizie per oggi è proprio finito. Arrivederci alla prossima puntata.